E' stato sorpreso dai poliziotti un 24enne san-cataldese con 50 grammi di cocaina negli slip, pronta per essere venduta a capodanno. Potenziate le attività investigative anche per il contrasto al traffico di droga nel periodo festivo durante il quale notoriamente aumenta la richiesta di sostanze stupefacenti. Così come disposto dal questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari sono stati potenziati i controlli. Tra quelli di ieri, proprio quello del 24enne. L'indagato è stato fermato a bordo della sua auto mentre proveniva da Catania. Condotto agli uffici della squadra mobile, il giovane ha subito ammesso di avere acquistato della droga e l'ha consegnata ai poliziotti. La cocaina nascosta negli slip è stata analizzata dalla polizia scientifica. E' stata poi effettuata la perquisizione del domicilio del 24enne san-cataldese dagli uomini della sezione narcotici della squadra mobile che hanno trovato e sequestrato un'ingente somma di denaro e tutto il materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Impedendo così l'immissione sul mercato di circa 150 dosi destinate per lo più a giovani assuntori. Parliamo di un valore di 5.000 euro di stupefacente. La procura della Repubblica ha disposto che il giovane fosse condotto al suo domicilio per essere sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.